Depositate in tribunale le motivazioni della sentenza di secondo grado che ha confermato le condanne ai due turisti tedeschi alla guida del motoscafo che nel giugno del 2021 travolse l'imbarcazione con a bordo due ragazzi uccidendoli. Sottolineato in maniera marcata lo stato di ubriacchezza e brezza dei tedeschi, il tragico fatto cui si fa riferimento è l'incidente nautico in cui la sera del 19 giugno del 2021 nel golfo di Salò persero la vita Gretta Nedrotti, 24 anni, e Umberto Garzarella, 37. Il gozzo su cui si trovavano venne investito dal riva di proprietà di Christian Teisman e condotto dall'amico Patrick Kassen. I due turisti tedeschi quel giorno erano nella zona di Salò per il passaggio della Mille Miglia dal centro gardesano dopo cena l'incidente mortale. Durante il processo di primo grado Kassen è stato condannato a 4 anni e 6 mesi mentre Teisman a 2 anni e 11 mesi. Le condanne sono state confermate in appello e ora sono state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado. Ampio spazio viene dedicato allo stato di ubriachezza e brezza degli imputati. Secondo la Corte sono infondate le doglianze difensive finalizzate a contestare quanto sostenuto in primo grado dal Tribunale, cioè che al momento dell'impatto con il gozzo i due imputati fossero in condizione di ebrezza e ubriachezza. Questo, secondo la Corte d'Appello, su base di testimonianze, ma non solo. Ci sono coppie forensi dei cellulari in cui gli imputati vengono fotografati mentre brindano, seduti con bicchieri di vino, mentre si fanno versare del vino da una cameriera. Le violazioni di Kassen, secondo la Corte, sono tutte innesso di causa con il sinistro, compreso lo stato di ubriachezza o quantomeno di ebrezza alcolica, foriero di una condizione di significativo obnubilamento e di rallentamento psicomotorio indotto dall'abbondante alcol ingerito e va decisamente esclusa l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa Teisman, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato non a causa di un rallentamento psicomotorio di Kassen per l'alcol, ma in ragione di un'emesso o difettosa individuazione del lancione, con riferimento a Umberto e Greta. La Corte d'Appello stabilisce invece che è dunque fondato a affermare che gli occupanti del lancione non erano in grado di vedere le luci di navigazione del riva, vuoi perché offuscate dai fari di murata, vuoi perché addirittura non visibile a causa dell'altezza della prua assunta d'arriva alla velocità di 19, 20 nodi. Una sentenza che quindi motiva senza mezzi termini la conferma delle condanne dei due tedeschi. Greta Nedrotti morì per annegamento, aveva 25 anni, il suo corpo martoriato dalle ferite, venne recuperato dopo 12 ore a 100 metri di profondità. Era sulla barca ferma sul lago con Umberto Garzarella che di anni ne aveva 37.